Il 16 luglio 1974 nasce all'Odi Massimo Marazzina. Attaccante cresciuto nelle giovanili dell'Inter, la sua esperienza in azzurro è datata a 2002 e arriva grazie alle brillanti prestazioni che Marazzina offre nel Chievo di Del Neri, una squadra passata alla storia del calcio italiano che in quella stagione, da neopromossa, si classifica al quinto posto in Serie A. Marazzina riceve la prima convocazione nelle febbraio 2002. Il commissario tecnico Giovanni Trapattoni lo chiama per l'amichevole di Catania con gli Stati Uniti e lo fa esordire inserendolo, ad inizio secondo tempo, al posto di Christian Vieri. È la prima di tre presenze in azzurro per Marazzina, che ad agosto gioca un altro tempo nell'amichevole con la Slovenia e ad ottobre entra in campo nel finale del match di qualificazione europea con il Galles. Tre presenze che hanno impreziosito la carriera di Marazzina nel suo periodo più luminoso, quello della favola del Chievo.